La parrocchia di San Marco a Sassonia, che comprende anche quella di Via Nolfi, è stata oggetto nei giorni scorsi di una rivisita da parte della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Infatti le due realtà sono state smembrate. Questo non vuol dire che le celebrazioni non verranno più ufficiate, ha detto il vicario Don Francesco Pierpaoli. Quello che si sta facendo è poter offrire alle persone e ai battezzati un miglior servizio pastorale. Questo caso particolare qui a Fano, la parrocchia di San Marco in Sassonia, è stata smembrata come già tra l'altro per diversi servizi da diverso tempo avveniva e le famiglie, i ragazzi, le 2600 persone che ne facevano parte sono state inserite nella parrocchia che è guidata dagli agostiniati di San Giuseppe al Porto, la parrocchia della Gran Madre di Dio guidata da Don Francesco Londei e la parrocchia del centro storico della cattedrale dove c'è Don Giorgio Giovanelli. Ecco, questo smembramento fa sì che il servizio continui ai fedeli, sia quello della carità, sia quello della catechesi, sia quello della liturgia. Nella chiesa di Via Luigi Mascherpa a Sassonia le celebrazioni sono confermate la domenica alle ore 10, mentre lungo Via Nolfi la Santa Messa si svolgerà alle ore 9 tutte le domeniche e dal mese di novembre verranno introdotte anche le messe feriali. Quella zona sono le suore francescane a compiere ancora un servizio pastorale. Questo movimento sta già avvenendo da diverso tempo nella nostra diocesi. Nell'entroterra parliamo già di parroci che hanno addirittura tre comuni nelle loro parrocchie. Parliamo già quindi di un clero che è vero, è sempre più anziano e siamo sempre di meno. Però c'è anche una crescita forte di tutto un servizio ministeriale offerto al laicato. Ecco, su questo punto, quindi, io più che lanciare difficoltà australi contro le soppressioni, eccetera, direi che dobbiamo saper leggere i segni di questo tempo. Probabilmente le nostre comunità fortemente clericali, forse in passato, perché laddove c'era il prete c'era la chiesa, oggi si scoprono più popolo di Dio. Quindi è un invito a tutti a continuare a servire il Vangelo nei luoghi attraverso un servizio maggiormente sinodale, come oggi si dice, cioè capace di coinvolgere laici, preti e religiosi nella vicinanza e nell'evangelizzazione a tutti. Infine, ha concluso Pierpaoli, tutte le documentazioni come battesimi, matrimoni passati o le certificazioni delle cresime svolte a San Marco saranno a disposizione nella parrocchia di San Giuseppe al Porto.